Si tiene a Bergamo in questi giorni l'importante congresso che si occupa soprattutto dell'infezione da HIV perché ci sono nuove terapie, ci sono nuovi approcci al paziente ed è giusto continuare a parlarne anche per andare contro lo stigma che sussiste verso questa infezione e verso le persone che ne sono affette. Parliamo del congresso ICAR 2022 con uno dei presidenti del congresso, il professor Franco Maggiolo. Il professor Maggiolo ci dice qualcosa sul congresso appunto in corso di svolgimento qui a Bergamo? Questa è la 14esima edizione del congresso ICAR che è l'occasione più rilevante per i ricercatori in campo virologico e soprattutto di malattia da HIV in Italia. Quest'anno abbiamo tentato un qualcosa di un po' diverso rispetto alle edizioni precedenti iniziando un'attività sulla città ospitante dieci giorni prima dell'inizio del congresso in modo da coinvolgere la cittadinanza il più possibile. È stato allestito un murales in centro città che richiama l'attenzione sull'HIV. È stata aperta una mostra che ripercorre i 40 anni di storia dell'HIV che è aperta tutta la cittadinanza dove sono stati invitati a partecipare gli studenti che hanno partecipato negli ultimissimi giorni di scuola. Esiste il test in piazza che è libero, gratuito e anonimo sia per l'HIV che per l'epatite C che per la sifilide. Quindi abbiamo fatto uscire la scienza dalla Torre d'Avorio e l'abbiamo portata il più possibile a contatto con i cittadini. Sì, dottor Maggiola, ma l'HIV sta veramente diventando una patologia cronica? L'HIV è una patologia cronica. Le terapie che abbiamo a disposizione permettono oggi una sopravvivenza sostanzialmente identica a quella della popolazione senza infezione d'HIV. Le condizioni perché questo si verifichi sono sostanzialmente due. La prima è fare una diagnosi precoce, cioè prima si riesce a diagnosticare l'HIV meglio è. La seconda è aderire alla terapia in maniera importante e sostanziale. Senta, nonostante i grandi passi avanti appunto che lei ci ha fatto capire dal punto di vista della cura, rimane il grosso problema dello stigma per le persone appunto colpite dall'infezione. Cosa si può fare? Cosa può fare la comunità per superare questo stato di cose? Beh, la comunità può capire, la comunità può parlarne. Non se ne parla più dell'HIV. La cittadinanza ignora per buona parte che una persona con HIV che si cura e che ha una viremia non misurabile non trasmette l'infezione, neppure con rapporti sessuali non protetti. Quindi che può sostanzialmente fare una vita assolutamente normale. Ora di queste cose bisognerebbe parlare, bisognerebbe parlare a tutti, tutti dovrebbero saperlo. Il che non vuol dire che uno può tranquillamente diciamo infettarsi, è meglio non infettarsi, ma una volta che è successo ci si può curare, ci si deve curare perché questo fa il bene di se stessi, ma migliora anche diciamo la situazione comunitaria nel senso che la trasmissione del virus si riduce.